Benvenuti amici, io sono Salpimpos, oggi siamo su The Man in the Park Gioco è horror ovviamente, non si direbbe dalla grafica, tutta pixelata, però ci sono jumpscare ragazzi Allora, sembra un po' in stile quello dell'autobus che abbiamo visto l'altra volta Quindi andiamo un po' subito a vedere di che cosa si tratta Press E to play Attenzione, salve, buon uomo, dove siamo? Ecco, il luogo sembra molto simile a quello che abbiamo visto con l'autobus, il tizio che doveva prendere l'autobus Allora, buongiorno, buonasera, come va? Press E to talk to the old man Salve old man, please help, che gli è successo? I can't find my grandson Tim, non trovo suo figlio Timmy L'ho visto nel parco giochi lì Eh, ma sono troppo stanco per andare a dare un'occhiata Credo che sia affamato, lo troverai per favore Aspetta un attimo che ci do un'occhiata, va Allora, eh, io qua figli non ne vedo però Dove si nasconde il figlio? Scusate, sei dentro il tubo? Salve, figlio Senta tizio, qua figli non ci sono Ma devo salire sulla... sul coso qua Io salgo So, prestito To enter the slide Timmy, are you in here, Timmy? Che cacchio è? Ma... ma stiamo scherzando Ma come? Helping hand Medium rare Finale, ecco, l'ho detto che era molto simile A quello che abbiamo già visto Eh, Timmy felt his dinner was a... Mi ha mangiato Your body is never found Il mio corpo non è stato mai trovato Mi ha mangiato Il figlio che mi mangia Ma che cacchio di figlio hai? Che c'hai mostri come figli Non che tu sia sta gran bellezza, però Allora, primo finale sbloccato Andiamo al secondo Ma scusami, allora io non ci parlo Con sto tizio qua Vado dritto... al figlio Adesso mi mangia nuovamente Salve No time for slides I should be getting home Non mi fa... non mi ci fa parlare Ma devo esplorare qual... qualcosa Che texture, però Che texture strane Che è? No time for park trash C'è una barretta di cioccolato I should be getting home C'è una barretta di cioccolato Però non me la fa prendere E quindi... Non mi fa fare niente No time Ma quindi ci devo parlare per forza Qua che faccio? Niente Ci devo parlare per forza Forse Ma e quindi che cacchio devo fare? Senta, buon uomo C'è il suo figlio che mi mangia Che si fa? Prestito Search Trash Spin Vuoto Perché qui mi fa cercare? E lì no Senta, buon uomo C'è il figlio che è affamato E niente Questo è il finale prima Thank you Ma questo è il finale prima Quindi se io mi avvicino lì Magari devo prendere la barretta di cioccolato adesso Ecco Magari non mangia me Te, ti do una barretta di cioccolato Pigliati la barretta di cioccolato Te Great Thanks miss Tell my grandpa you'll be there soon Eh, e digli al nipote che Gli ho dato la barretta di cioccolato Senta, buon uomo Sua nipote è lì Non è il figlio È il nipote Preced to talk to the old man Thank you for giving Timmy a snack Come to Mi scusi Ma io sto leggendo Ma mi può fare jumpscare mentre io leggo? Comunque finale 2 di 3 Attenzione I'm tired Of eating out The old man thinks to himself Your body's never found Ovviamente il mio corpo non è mai trovato nella vita Quindi finale 2 sbloccato Cerchiamo di individuare il terzo Se io parlo con Timmy qua Mi mangia Cioè io attivo l'altro finale No time for sliver I should be getting home Ma io me ne posso andare in qualche modo Da sto parco dello schifo Senza, senza che Do confidenza agli estranei No, mi sa di no Devo fare qualcosa io La cioccolata La prendo solo nel caso in cui Parlo con il tizio E quindi niente Di qua Non mi Non ci posso andare E niente Mi sa che ci devo parlare Le cestine È sempre vuoto qua Ci sono altri cestini Da ste parti Da qua Presti to leave the park And go home Me ne vado Non parlare agli stranieri Agli sconosciuti Finale 3 di 3 Ok Me ne sono andato San e salvo a casa Perché non ho parlato Con strana gente Al parco Di notte Quindi good job Finito Gioco finito Finissimo Morale della storia Quando siete nei parchi La sera Non date confidenza agli sconosciuti Se vi chiedono Senti potresti andare a guardare Lì mio nipote Che sta giocando al parco Potresti portargli una barretta di cioccolato Non lo fate Non lo fate assolutamente Andate via Andate via Gambe levate Perché evidentemente Vi vuole usare come cibo Per i nipoti Quindi Al solito come sempre Vi invito a lasciare un bel like Se vi è piaciuto E noi ci vediamo al prossimo video Iscrivetevi al canale E per oggi è tutto Al prossimo video